gentili telespettatori buona giornata beh io questo ve l'avevo già detto meloni vorrebbe fiorello a condurre sanremo lui adesso poi risponde c'è un punto amadeus ha il contratto ancora per il prossimo anno non è intenzionato ad andare via anche se gli faranno pressioni lui vuole rimanere a fare il festival quindi facendo pressioni se ne è andato via l'amministratore delegato della rai se ne è andato via fabio fazio e l'alitizzetto facendo delle pressioni facendo capire che non erano più graditi ma amadeus sembrerebbe sembrerebbe invece intenzionato a fregarsene delle pressioni e di continuare a fare il festival anche il prossimo anno poi sono amici con fiorello come fa fiorello a portare via il lavoro ad amadeus un po difficile fiorello dice sono il nuovo pino insegno ecco fiorello ironizza ironizza sulla possibilità di condurre il festival di sanremo pare che sia strai desideri di giorgia meloni dice sono il nuovo pino insegno dice fiorello e scherza con l'amico amadeus è finita per te vai a casa però dietro lo scherzo c'è la realtà che è proprio quella che è proprio quella far trapelare la meloni vuole fiorello sono pressioni che diventano poi sempre più pressanti come dire te ne vuoi andare vuoi dire che non lo fai più così ci mettiamo qualcun altro ecco sono settimane che nella rai ci sono problemi di gente in partenza dove ogni buona ogni voce buona per scatenare un putiferio in merito ai nuovi programmi e nuovi presentatori e così la mattina a viva rai 2 fiorello commenta ironicamente una notizia che riporta il quotidiano domani secondo cui giorgia meloni lo vorrebbe come nuovo conduttore del festival di sanremo al posto dell'amico amadeus fiorello ironizza giorgia meloni vorrebbe fiorello perché amadeus è troppo di sinistra legge proprio fiorello sulle pagine del quotidiano facendo riferimento quello che c'è sul quotidiano alle voci che ci sono in questi giorni è vero dice io sono il nuovo pino insegno amadeus hai chiuso a casa asta sanremo sempre dice l'amico sciuri che intanto si prepara a chiacchierare con il diretto interessato al telefono dice io sarò in piazza colombo con il movimento operaio a protestare contro di te dice amadeus ironico a sua volta ci sono diversi cambi nella rai chi prenderà il posto di fabio fazio che va alla nove con con la litizzetto poi c'è lucia annunziata si sono liberati vari vari posti quindi adesso arriveranno tutti i conduttori di centrodestra il punto è questo che non c'è da scandalizzarsi perché quello che sta facendo questo governo è esattamente quello che stanno che hanno fatto i governi precedenti sotto sotto l'aspetto dell'impossessarsi delle poltrone del potere questo governo non è diverso da quelli che c'erano prima sta facendo esattamente quello che è diventata anche una legge con renzi renzi proprio aveva fatto una legge dove diceva che chi arriva in al governo ha il diritto di mettere le persone cambiare le persone in rai quindi questo governo quello che parla del merito il merito prima di tutto anche meloni ieri parlava del merito in rai nel merito nella società ma in realtà stiamo vedendo che il merito è una parola astratta in realtà sta andando in scena come sempre si è fatto in italia il nepotismo si arriva e si mettono gli amici conoscenti fedelissimi nei posti di potere potere e soldi quindi sotto questo aspetto il governo meloni è esattamente uguale a quello di prima merito me lo merito merito io diceva una pubblicità di un panettone no di una brioche di una brioche con sopra lo zucchero no melo merito merito io quindi il merito casomai è per voi ma non per i politici i politici sono arrivati in cima e non gli vogliamo dare una poltrona non gli vogliamo dare uno stipendio aggiuntivo è scusa arrivo io e cambio tutto no arrivo io e faccio come tutti gli altri chiaramente fiorello a condurre il festival di sanremo secondo me il più indicato e sarà lui il prossimo sicuramente amadeus magari finirà con il prossimo anno il governo ovviamente cercherà di impedire che il festival si trasformi nuovamente in quello che abbiamo visto l'anno appena passato dove si è svolto una specie di primarie del quadrupede che continua a piangere come vi dicevo il festival l'ultimo festival di sanremo era un ritrovo di sinistri televisivi che hanno attaccato il governo un po come il primo maggio infatti il primo maggio già non è andato più in diretta in televisione proprio per evitare i messaggi dati a milioni di persone dai sinistri che utilizzano questi palcoscenici per attaccare il il governo quindi fiorello sicuramente sarà quello che condurrà il festival di sanremo non forse non quest'anno che viene ma dal prossimo è d'altronde cacciare via tutti subito è impossibile bisogna aspettare che finiscono i contratti quindi impossessarsi della rai è per legge ma bisognerebbe aspettare che terminino i contratti quello che si può fare è invitare la gente ad andare via poi con l'invito avete visto che qualcuno realmente è andato ad esempio con fazio fazio ha presentato il rinnovo del suo contratto a marzo per tre mesi a distanza di dieci giorni dalla fine del suo contratto nessuno gli aveva risposto e lui ha deciso vabbè me ne vado visto che non mi risponde nessuno ecco l'amministratore delegato ha tenuto lì il contratto per tre mesi aspettando il nuovo governo per magari fare un favore a quelli che stavano arrivando quindi zelante l'amministratore delegato che poi se n'è andato ha tenuto lì il contratto di fazio per tre mesi per fare un favore a quelli che stavano arrivando pensate pensate un po no si è genuflessione volontaria a chi non era ancora arrivato grazie a tutti e arrivederci a presto